M. Lador ha scritto una buona Budolana, però alla fine ha vinto la Sarnese. Io credo soprattutto che l'espulsione ci ha tagliato un po' le gambe, perché è stata subito affrettata questa decisione dell'arbitro. Anche se era un fallo di mano, però il ragazzo è andato nel contrasto e ha preso questa battuta. Il trammarico mio è che ha munito a sette di noi. Non so cosa c'è contro la Budolana. E questo è un trammarico più importante, perché poi quando un arbitro gli dà delle spiegazioni e tutto, e si mette anche a ridere, non è bello. Allora su questo mi sono incazzato un pochettino, perché non esiste venire in casa nostra a munire a sette persone, dove che poi un fallo anche loro non c'era un'ammunizione. Però tutto sommato è stata una partita che anche noi in dieci abbiamo avuto delle occasioni a secondo tempo, con Simeri. Se riuscivamo a sfruttarli meglio, secondo me, potevamo anche pareggiare la partita. Anche loro hanno avuto delle loro occasioni, perché giustamente stanno in dieci. I ragazzi hanno dato l'anima fino alla fine. Io più di questo non... perché il mio pensiero era di far giocare Manvellotti là davanti per dare un po' più di forza alla squadra, con un campo bagnato del genere. Però volevo dare la possibilità a Sorrentino, insieme a tutti e tre, che loro avevano una difesa un po' lenta, come si dice, e sfruttare questa velocità di questi tre là davanti. E già ero pronto per la sostituzione, perché volevo togliere Sorrentino, mettere Fiore in mezzo al campo, centrale e vacca più da centrocampo, per dare una mano di più, perché poi il nostro centrocampo, tra Sorriso, Mazzocchi e il ragazzo Corrado, abbiamo fatto un po' di fatica. Però il primo tempo credo che loro hanno retto abbastanza bene e questa era la mossa che io volevo fare il secondo tema. Non è stato possibile perché c'è stata l'espulsione e all'ultimi dieci minuti, in quarto d'ora, ho tentato di mettere Manvellotti per riuscire a pareggiare la partita. Un K.O. che alla fine, dopo il 7-2 la settimana scorsa, la squadra ha visto che in campo ha risposto. Al di là, giocando in dieci, comunque ha risposto. Si è trovata in difficoltà, ha trovato di fronte anche una squadra che forse anche in virtù del vantaggio non si ha acquisito sicurezza. Ma del 7-2 io non ne parlo neanche perché là è stata una partita, ripeto, senza difensori, senza niente. Oggi ho visto anche in difesa i ragazzi che si sono comportati abbastanza bene. Vedi quel ragazzo 96 Valle, vedi, signore, come si sono comportati. Quando tu hai dei difensori, vuol dire che 7 gol non li puoi prendere. Però quello l'abbandoniamo, guardiamo avanti perché il cammino è ancora lungo e secondo me con questa grinta, con questa voglia, sicuramente ci saranno ancora qualche possibilità di prendere qualche altro giocatore e ce la giocheremo fino alla fine. Ecco, proprio lei ha parlato di prendere qualche giocatore. Lei in settimana ha riusciato in intervista dicendo che si aspetta buone cose dalla società. In quali punti del campo sicuramente lei ha dato le indicazioni precise alla società? Noi stiamo trattando anche a Mendole del Napoli, un centrocampista, stiamo trattando una punta e ancora un altro difensore. Perché sicuramente con questa gente che hanno voglia, gente che vogliono, diciamo, che vengono qua a Pozzuoli per mettersi in gioco e per fare questa cavalcata, per cercare a meno di arrivare nei play-out oppure nei play-off, alla salvezza, voglio dire.